Cinque giorni di chiusura immediata imposti dalla Polizia Municipale, che potrebbero aumentare in base alle decisioni che Questura e Prefettura indicheranno. Si è conclusa così la cena che si è svolta ieri sera nel ristorante La Macelleria del ristoratore Umberto Carriera, al termine della manifestazione che sempre ieri in Via Branca e in Piazza del Popolo ha contato centinaia e centinaia di partecipanti. Due momenti distinti che hanno animato nella serata di ieri il centro storico pesarese. Da una parte le voci scese in piazza delle diverse categorie, protagoniste delle restrizioni previste nell'ultimo DPCM, per il quale il sindaco Matteo Ricci si è detto subito disponibile ad incontrare una delegazione di lavoratori. Dall'altro il post-manifestazione, la cena di protesta che ha suscitato un forte rumore mediatico anche a livello nazionale e raccolto diverse voci contrarie. Netta sull'accaduto la posizione del primo cittadino. In piazza ieri c'erano in gran parte persone molto preoccupate del proprio futuro, arrabbiate, preoccupate per i loro dipendenti e quindi è una piazza che va ascoltata e non a caso da oggi inizieremo gli incontri con le delegazioni, inizieremo con la parte dei ristoratori, poi andremo con la parte sportiva della danza, poi con la parte degli operatori culturali dello spettacolo, quindi abbiamo diviso almeno in tre riunioni gli incontri per ascoltare. Al tempo stesso come sindaci abbiamo chiesto da subito indennizi immediati. Oggi c'è il Consiglio dei Ministri che stanzierà diversi miliardi per indennizi immediati alle attività più colpite in questo mese di chiusura che si è aperto ieri e quindi occorrono risposte immediate e ascolto perché è evidente che ci sono delle categorie molto molto preoccupate, ogni piazza che si esprime pacificamente va ascoltata e in qualche modo anche se sono questioni nazionali e non comunali, come sindaco, come amministrazione, come giunta cercheremo di capire quali sono i problemi, di sollecitare il governo sulle risorse e vedere se eventualmente possiamo fare qualcosa in più anche noi. La buffonata fatta alla macelleria ha compromesso l'immagine di una manifestazione pacifica, i diritti e le rimostranze di tanti ristoratori, baristi, gestori di palestre che erano venuti a manifestare un disagio legittimo. È stata una buffonata molto grave, molto grave perché a Pesaro le leggi si rispettano a maggior ragione durante la pandemia, molto grave perché ha messo a repentaglio anche la salute credo di molte persone perché non c'erano mascherine. Mi pare che dalle immagini che ho visto c'erano anche problemi di sicurezza e non si affronta con sfacciataggine in quel modo le istituzioni e le forze dell'ordine. Anzi, fatemi fare i complimenti al questore, al prefetto, alla polizia municipale perché hanno gestito con grande intelligenza la chiusura del locale che è stato chiuso, evitando scontri, evitando collutazioni fisiche come abbiamo visto in altre città. Però sono provocazioni molto gravi e io ho chiesto da subito il pugno duro perché cose del genere non devono capitare innanzitutto per rispetto dei tanti, di tutti gli altri che ieri hanno chiuso, hanno rispettato le regole, hanno rispettato la legge e non vanno in giro a fare buffonate pericolose come sono state fatte alla macelleria. Per un po' di pubblicità personale si è buttato discredito su una categoria che non lo merita e al tempo stesso si è fatta una cosa molto pericolosa. Quindi ho chiesto il pugno duro, hanno fatto un ottimo lavoro, il locale è stato chiuso. Non è chiuso solo per cinque giorni, come qualcuno ha detto. Questa è la chiusura immediata che può fare la polizia municipale. Adesso la palla passa al prefetto e questore e staranno a loro a definire quali sono i reati commessi, le punizioni di conseguenza, le sanzioni o le ripercussioni penali alle quali il titolare del locale e forse anche i partecipanti andranno incontro. A replicare al sindaco alle misure prese dalla polizia e alle voci in contrasto con l'organizzazione della cena per la non osservanza delle misure di sicurezza è stato lo stesso Carriera che questa mattina si è recato presso il proprio ristorante sul quale era presente il sigillo di chiusura posto dalla polizia municipale. L'impressione è che abbiamo fatto la scelta giusta. Ripeto, ho letto tante cose, sono stato contattato a tante persone che ci appoggiano ma anche altre persone che non sono d'accordo. Quello che voglio dire è che noi abbiamo fatto tutto assolutamente nel rispetto delle norme vigenti. Ripeto, oggi a pranzo si potrebbe lavorare, si potrebbe tenere aperto, si potrebbe dare da mangiare a 90 persone, esattamente come abbiamo fatto ieri, rispettando i protocolli, rispettando le distanze, rispettando la capienza massima. Ripeto, perché non si possa fare a cena? Siamo di fronte ad un problema sanitario grandissimo ma siamo di fronte ad un problema sociale ed economico ancora più grande. La legge va rispettata ma anche la Costituzione va rispettata. Siamo un paese fondato sul lavoro e non ci permettono di lavorare. Ripeto, negli ultimi nove mesi sono stati emanati, credo, una ventina di PCM e li abbiamo sempre rispettati, la categoria dei ristoratori, la categoria dei baristi, la categoria delle palestre, delle piscine. Tutto è stato rispettato e stiamo lavorando in assoluta sicurezza. Ripeto, non si parla di buffonato quant'altro. Io metto la mia faccia, i miei locai, la mia attività, il mio denaro per tutelare tutte le persone e tutti gli imprenditori.